La data di chiusura dei saldi invernali potrebbe essere prorogata a fine marzo. La richiesta alla Regione è partita dal tavolo tecnico convocato ieri dal Comune di Pescara con le associazioni di categoria. Il rinvio consentirebbe di dare una boccata d'ossigeno ai commercianti penalizzati dalle chiusure imposte dalla zona rossa, abbigliamento uomo-donna, accessorie, gioiellerie su tutti, permettendo di smaltire l'invenduto delle collezioni autunno-inverno, come spiega Gianni Tauci, direttore provinciale di Pescara di Confesarcenti. In questo momento è utile prorogare il saldo perché siamo in chiusura, in un lockdown per le attività del commercio, quindi così come abbiamo già fatto noi come associazioni di categoria nel chiedere alla Regione Abruzzo una proroga al 15, è utile ulteriormente prorogare al 30 di marzo il termine del fine saldo. Sarà la Regione in piena autonomia a deliberare immediatamente anche su richiesta dell'amministrazione comunale di Pescara questa proroga, in maniera tale che si possa continuare il saldo sperando di rientrare in una zona arancione che ci conceda di poter rifrequentare almeno città per città le attività commerciali che potranno stare aperte, sempre con la dovuta educazione e sempre con il dovuto rispetto delle norme anti-Covid. Per cui ci attendiamo immediatamente dalla Regione Abruzzo, una risposta che attraverso una delibera, che dia l'opportunità di prorogare il saldo al 30 di marzo. Penso che il giro 24-48 ore si dia comunque la risposta alla proroga. Ai problemi del settore, gravemente provato dalla crisi legata all'emergenza sanitaria, si aggiunge però anche la concorrenza dell'online, una giungla commerciale per cui le associazioni di categoria chiedono da tempo e con urgenza alle istituzioni preposte di attivarsi per un'apposita regolamentazione. È da tempo che come confesarcenti chiediamo al governo italiano ma anche al governo europeo, o alla comunità europea, di legiferare una correttezza dell'utilizzo della promozione online, perché il vero problema è proprio lì. Il saldo può avere una durata ma sull'online non ci sono regole. È naturale che spingiamo anche le attività locali a esercitare delle azioni di e-commerce locale, attraverso portali locali, lì dove ci sono dei momenti e delle difficoltà ad arrivare sul punto vendita. Questa potrebbe essere una soluzione che riduce in parte, ma le regole devono essere uguali per tutti, sia per coloro che hanno un'attività in presenza locale dentro una città, sia per coloro che hanno un magazzino e che vendono solo online. Le regole uguali per tutti.